Doppi punti! Ehi! Non l'avevamo appena ucciso quel grosso idiota con le atti! Inizio a credere di poter affrontare tutto ciò che questi diavoli hanno in sé! Ehi! Non lo so! 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 Come osi! Io ho rovesciato un governo! V'è liberato una nazione! Che sei tu per graffiare? Oii! Maka! Vieni a grattarmi la schiena! Sono più veloci di quanto sempre! Munizioni al massimo! Munizioni al massimo! Oh, quanto mi piace dirlo! Suona davvero bene! E non c'è nessuna fregatura! Sentiamo di Al provincia! Ucciso da Diego! Ci sono modi peggiori ai diabbi alarm! C'è nessuno! Mappa! Alla prossima! Un uomo mascherato è inquietante, sembra determinato a portare a termine questo gioco. Anzi, a usarci, per farlo. Mmm, sa di menta. Perché non sono tutti così? Mmm, dicono che ogni profumo funziona un ingrediente maleodorante. Questo ne ha almeno sei. No, non durerò molto se continuano a mantenarmi così. Dubbio, sulla medicina? Odio non avere tasche? Non chiedetevi. A distanza. Non si è difficile, muerto. Diego ha qualcosa per voi. Ha ha, cura, salvi. Visto? Molto semplice. Il cazzo di mostro è il suo nuovo gioco. Stai facendo arrucchere. È un errore. Giù le sarà, per cupo. Grazie! Grazie a tutti.